Pubblicità regresso classic. Se il vostro cane o il vostro gatto è di gusti difficili, allora è il momento di acquistare Viscasse Pal. Con Viscasse Pal il vostro amico del cuore si leccherà i baffi e la smetterà di rompere. Se avete in casa un Viscasse Pal, allora usate Ciappi, perché con Ciappi, con Nappi Nappi.